Giovani e lavoro, si è discusso di proposte e opportunità a Benevento presso il Centro Pastorale Giovanile in una giornata a cura dell'Accademia Creativa Turismo in collaborazione con il Centro Turistico Studentesco di Roma. L'indicazione degli esperti presenti a Benevento è quella di guardare all'estero e in particolare alla conoscenza delle lingue. Oggi lanceremo questo progetto di promozioni di corsi di lingua all'estero. I nostri corsi sono sponsorizzati comunque dall'ACT che è l'Accademia Creativa Turismo di Roma in collaborazione con il CTS che è il Centro Turistico Studentesco di Roma. In un mondo comunque globalizzato per cui anche laddove si decidesse di vivere e lavorare in Italia cosa che io mi auguro che questo sia tutti i giovani, i rapporti con l'estero sono mai fondamentali. Sono fondamentali sia per le relazioni commerciali ma soprattutto per le relazioni culturali perché evidentemente oggi il mercato non è soltanto quello nazionale ma è quello internazionale. Siamo sempre stati interessati un po' alla mobilità dei giovani quindi a consentire attraverso il viaggio, attraverso questa esperienza anche la possibilità appunto di formare un'identità professionale per questi ragazzi e il turismo sappiamo essere una delle leve importanti e principali per questo tipo di, diciamo anche di prospettiva.